...vienerisce e vera forza con il sacramento nuziale, perché vi amate all'un l'altro con amore fedele e insauribile e assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Fabrizio e Deonora, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costruzione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amare o non anche l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Siete disposti a raccogliere con amore i figli che Dio vorrà donarmi e aducarvi secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Alla presenza di Dio e davanti alla Chiesa che è riunita, datevi la mano destra ed esprimete il vostro consenso. Il Signore inizio e il compimento del vostro amore sia con voi, Signore. Io, Fabrizio, accolgo Dele e Onora come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Eleonora, accolgo Dele e Fabrizio come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore onnipotente e misericordioso conferma il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricordami della sua benedizione. L'uomo non osse separare ciò che Dio unisce. Il Signore benedica questi anelli che vi donate scambiavolmente in segno di amore e di fedeltà. E allora, vi cedi questo anello che insegna il mio amore e della mia fedeltà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fabrizio, ricevi questa anello che insegna il mio amore e della mia fedeltà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, consapevoli del singolare modo di grazia e di carità per mezzo del quale gli ha voluto rendere perfetti e consacrare l'amore dei nostri fratelli. Fabrizio e Leonora, chiediamo al Signore che sostenuti dall'esempio e dall'intercessione dei Santi essi custodiscono nella fedeltà il loro vincolo orgogliale. Preghiamo insieme e diciamo Ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Perché Fabrizio e Leonora attraverso l'unione santa del matrimonio possano godere della salute del corpo e della salvezza eterna preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché il Signore benedica l'unione di questi sposi come santificò le nozze di cana preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché il Signore renda fecondo l'amore di Fabrizio e Leonora conceda a loro pace e sostegno ed essi possano essere testimoni fedeli di vita cristiana preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché il popolo cristiano pesca di giorno in giorno nella certezza della fede e tutti coloro che sono oppressi dalle difficoltà della vita dicevano l'aiuto della grazia che viene dall'alto preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché lo Spirito Santo rinnovi in tutti gli sposi qui presenti la grazia del sacramento preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ora in comunione con la Chiesa del Cielo invochiamo l'intercessione dei Santi. Santa Maria Madre di Dio preghiamo. Santa Maria Madre della Chiesa preghiamo. Santa Maria Regina della Famiglia preghiamo. San Giuseppe Sposo di Maria preghiamo. Santi Angeli di Dio preghiamo. Santi Gioacchino e Danna preghiamo. Santi Zaccaria e Elisabetta preghiamo. San Giovanni Battista preghiamo. Santi Pietro e Paolo preghiamo. Santi Apostoli e Evangelisti preghiamo. Santi Martiri di Cristo preghiamo. Santi Anglia e Piscina preghiamo. Santi Mario e Marca preghiamo. Santa Monica preghiamo. San Paolino preghiamo. Santa Brigida preghiamo. Santa Rita preghiamo. Santa Francesca Romana preghiamo. Santo Maso Moro preghiamo. Santa Giovanna Beretta Molla preghiamo. Santa Andrea preghiamo. Santi Filippo e Giacomo preghiamo. San Gabriele della Dolorà preghiamo. Santi e Santi tutti di Dio preghiamo. E fondi Signore su questi sposi su questi sposi e le onora e Fabrizio lo spirito del tuo amore perché diventino un po' solo e un'anima sola. Non la separi questi sposi che tu hai unito e ricolmati della tua benedizione nulla ne applica per Cristo nostro Signore. il matrimonio è stato celebrato veramente che possiate vivere la gioia della vostra vita nella semplicità e nell'amore di Cristo. Amore. Grazie. 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 E bevetevi tutti. Questo è il carice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione e delicata. fare questo e me male. Mistero della fede. Annunciando la nostra conoscenza e salmiamo la tua rispettazione e l'attesa della tua benedizione. Amore nostro che sei di Cere e la potenza e la di Cere di Cere la ricchezza della tua benedizione perché rendono il proprio amore agli indipiditi della tua famiglia e la comunità cristiana. Ti lotti del Signore nella gioia, ti sento nella sofferenza, ti godano della tua di Cere di Cere e la di Cere di Cere e la di Cere e la di Cere Però in tre parti si controlla la tua volontà, che vivi a prendi e di secoli e di secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il Spirito del Cristo risorto scambiamoci un segno di pace. Non c'è il mondo in i miei anni, non c'è stato mai nessuno. In fondo alla mia vita, come te, e con te la mia partita, come sa che andrà in vita, scorrono i miei giorni, insieme a te. In cui tu di me, o malittonia, non c'è posto per produrre. La collaborazione nell'interesse della famiglia alla coabilitazione. Entrani i coniugi sono tenuti ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia. Articolo 144. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrare e quelli primi nenti della famiglia stessi. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Articolo 147. Il matrimonio impone alle due coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare l'avore, tenendo conto delle capacità, dell'indirizzo naturale e delle aspirazioni dei figli. Oggi giorno 24 ottobre 2009 alle ore 11.30, in anzi a me, Don Franco d'Angelo, parlo sulla parroccia di San Andrea Apostolo, di Occi di Terra Moate, Comune di Castelli, provincia di Terra, a Chiesa Parrocchiale, Roscioli, Fabrice, Di Claudio e Leonore hanno contratto il loro matrimonio davanti ai testimoni Pericone Quiglio e il donato Anna Luisa. Il Signore sia con voi, e con il tuo Spirito, Dio, nostro Padre, vi comunica la sua gloria e vi benedica con il dono dei figli. Amen. Cristo, Figlio di Dio, vi assista sempre nell'ora della serenità e nell'ora della prova. Amen. Lo Spirito Santo di Dio di noi sempre in voi con il suo amore. E su quei tutti che avete partecipato a questa liturgia ruziale scenda la benedizione di Dio di Potente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Andiamo in pace. Andiamo in pace. Grazie a Dio. Vai, vai, un applauso. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Grazie a Dio.